segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te benvenuto alla professoressa Ilaria Capua bentornata professoressa ci ha accompagnato e spiegato tutto quello che riguardava il covid durante questi anni alla pandemia ma la notizia è un'altra lei se n'era andata all'italia con molta amarezza ora ricorderemo perché però dopo sette anni negli stati uniti ha deciso di rientrare qui da noi perché ho deciso di tornare di qua dell'atlantico quindi in europa e di vivere in italia ho deciso di cambiare vita e di spostarmi in uno spazio professionale che non è proprio il mio lei era andata via dall'italia in seguito a una vicenda giudiziaria brutta era stata accusata e cose orribili poi rivelatesi completamente infondate lei aveva detto me ne vado sì me ne vado perché appunto ero stata accusata di vicende di reati punibili con l'ergastolo e rivelatisi poi infondati ma sono andata via offesa arrabbiata e anche così intristita del fatto che la mia competenza non fosse riconosciuta nel mio paese e invece poi grazie anche al lavoro che abbiamo fatto qui la mia competenza è emersa e quindi io ho fatto pace con gli italiani non ho fatto pace con il brutto sistema che ha diciamo provocato quell'incidente diciamo ancora ma noi approfittiamo della sua competenza lui che lei ha lanciato un allarme nuovo la viaria ci spiega perché ma non l'ho lanciato io esiste una preoccupazione importante intorno a quello che sta succedendo con l'influenza viaria l'influenza viaria fino a una ventina d'anni fa era una malattia rara di cui si occupavano in pochissimi tra cui la sottoscritta e adesso a causa delle diciamo dell'aumento della produzione di avicoli perché gli avicoli sono proteine a basso costo che servono per nutrire gli otto miliardi di persone che abbiamo sul pianeta questa infezione non è stata controllata a dovere e è passata negli uccelli selvatici e grazie a questo spillover massiccio negli uccelli selvatici si sta diffondendo in tutto il mondo e si sta diffondendo in maniera incredibilmente preoccupante perché sono colpiti milioni e milioni di animali in tutto il pianeta e questo non era mai successo ma questa situazione cambia lo scenario dell'influenza perché prima l'influenza viaria che sappiamo avere delle caratteristiche di letalità importanti era una malattia rara quindi ce n'era poco di virus in giro e invece adesso abbiamo una pressione infettante molto molto significativa nel regno animale si può presumere che farà il salto sì allora questo virus il salto di specie lo sta facendo non solo in homo sapiens ma anche in una serie di altri mammiferi tra cui gli orsi le volpi leoni marini in patagonia quindi il virus sta bussando sulla porta dei mammiferi ma la vera vera preoccupazione e ci dovrebbe essere un'immagine che vi ho mandato è che questa abbondanza di virus aviario possa rappresentare un pool genetico per riassortirsi con i virus dell'influenza stagionale allora se un virus umano e un virus aviario si incontrano nella stessa cellula e questo accade accade emergono una serie di varianti che hanno geni dell'uno geni dell'altro sono dei virus arlecchino ed è ovvio che se di virus aviario ce n'è centomila volte miliardi di volte di più di quanto non ce n'era solo dieci o vent'anni fa il rischio è molto più elevato lei in questo discorso ci ha fatto un po diciamo un riassunto è quella che è stata la sua filosofia anche nell'affrontare la vicenda del covid non la circolarità di quello che succede lei dice aumentano gli allevamenti aumenta la possibilità di ammalarsi lei tornerà a insegnare salute circolare da quello che ho capito io tornerò alla johns hopkins university di bologna che è una scuola che si che si occupa di studi internazionali e quindi ho deciso appunto di allargarmi in uno spazio non mio perché perché i problemi di salute pubblica i problemi di sanità animale le grosse emergenze sanitarie sono soprattutto problemi di politica internazionale ci troviamo con questo diciamo situazione molto complicata con l'influenza viaria perché perché la politica non è stato in grado di gestirla in maniera adeguata esiste adesso questo diciamo è riemersa la diciamo la storia che il virus del covid è fuggito da un laboratorio noi ancora questo non lo sappiamo ma è chiaro che se la cina non dialoga con gli altri paesi noi questo non lo potremmo mai sapere e la scienza non può andare avanti da sola se la politica non l'aiuta e quindi vado a fare questo primo anello questo primo anello professoressa grazie e bentornata grazie per essere stata di nuovo con noi in bocca al lupo per il suo lavoro grazie a tutti grazie grazie grazie